L'Enigma del Solitario di Jostein Garder Pic, asso di Pic, pedalando per la stradina fra i boschi, arrivò un soldato tedesco. Il grande viaggio verso la terra dei filosofi partì da Arendella. Un'antica cittadina di mare sulla costa sud della Norvegia. A Kristiansand ci imbarcammo sul traghetto Bolero che ci scaricò a Irtschals in Danimarca. Sul viaggio in questo paese e poi attraverso la Germania non ho molto da raccontare. A parte l'Egolanda e l'immenso porto di Hamburgo non avevamo visto altro che autostrade e fattorie. Soltanto arrivando alle Alpi qualcosa cominciò a muoversi. Avevamo fatto un patto, il pater e io. Io non avrei insistito per fermarmi a dormire prima della meta prestabilita. E lui non avrebbe fumato in macchina. Come reciproca concessione eravamo rimasti d'accordo di fare numerose pause sigaretta. Dell'intero tragitto in Svizzera e di queste fermate che conservo il ricordo più vivo. Le pause sigaretta incominciavano sempre con una piccola conferenza del pater su qualcosa che aveva pensato mentre lui era alla guida e io, seduto dietro, leggevo topolino o facevo solitari. Il più delle volte si trattava della mamma. Altrimenti partiva con i suoi argomenti preferiti, i suoi cavalli di battaglia. Uno di questi erano i Robot, un soggetto che aveva suscitato il suo interesse fin dal giorno in cui, dopo lunghi anni per mare, si era definitivamente stabilito sulla terraferma. Fin qui niente di straordinario. Se non fosse stato, per la sua convinzione, che un giorno o l'altro gli scienziati sarebbero riusciti a creare l'uomo artificiale. Lui, infatti, non parlava di quegli stupidi robot d'acciaio pieni di lucine rosse e verdi che parlano con voce cavernosa. No, non si trattava di questo. Credeva fermamente che prima o poi la scienza avrebbe realizzato veri e propri esseri umani pensanti, esattamente come noi. E non era ancora tutto. Sotto sotto era persuaso che ognuno di noi, persone in carne ed ossa, fosse in sostanza un essere artificiale. Noi siamo pupazzi animati, diceva spesso e volentieri, in genere dopo qualche bicchierino. Mentre visitavamo Legoland, ad un certo punto si imbambolò davanti agli omini fatti di Lego. Gli chiesi se stava pensando alla mamma, ma lui scosse il capo. Pensa, Hans Thomas, se tutto ciò improvvisamente prendesse vita, disse. Immagina se queste figure si mettessero a camminare frettolose tra le loro case di plastica. Che cosa faremmo noi, allora? Tu sei matto da legare, gli risposi. Infatti non credevo proprio che un padre normale avrebbe fatto questo tipo di discorsi al proprio figlio mentre lo portava a spasso per Legoland. Era il momento di chiedere un gelato. Un po' per volta avevo imparato che per ottenere certe cose era preferibile aspettare che il pater cominciasse ad esporre le sue idee strampalate. La mia teoria era che ogni tanto gli venissero i rimorsi di coscienza a discutere di simili cose con suo figlio e si sa che chi ha la coscienza sporca tende a diventare particolarmente magnanimo. Prima ancora che aprissi bocca per chiedere il mio gelato, lui sentenziò. No, in fondo anche noi siamo omini di Lego che improvvisamente hanno preso vita. Il gelato era garantito perché ormai era partito a filosofare. Il nostro viaggio ci avrebbe portati fino ad Atene, però non si trattava di una vacanza qualsiasi. Ad Atene, o perlomeno da qualche parte in Grecia, avremmo cercato di ritrovare la mamma. Non eravamo affatto sicuri di rincracciarla e se anche ci fossimo riusciti, non era detto che sarebbe tornata a casa con noi, in Norvegia. Ma dovevamo tentare, aveva detto il pater, perché né lui né io avremmo potuto continuare a vivere senza di lei. La mamma ci aveva lasciato quando avevo quattro anni. Deve essere questa la ragione per cui ho continuato a pensare a lei come alla mamma. Il pater, invece, avevo avuto modo di conoscerlo meglio e un ben giorno mi era sembrato strano chiamarlo ancora papà. La mamma voleva uscire dalle quattro mura di casa ed esplorare il mondo per ritrovare se stessa. Il pater e io capivamo benissimo come una donna, già madre di un bambino di quattro anni, volesse esercitare il sacrosanto diritto di andare alla ricerca di se stessa. Ragion per cui non avevamo esitato ad appoggiare il suo progetto. Tuttavia, per quanto mi riguardava, non capivo davvero perché la mamma, per ritrovare se stessa, doveva andarsene via lontano da noi. Non poteva tentare di sistemare le sue faccende rimanendo a casa ad Arendelle o al limite accontentarsi di un viaggetto fino a Cristiansand. A ogni buon conto, il mio consiglio a chiunque desideri ritrovare se stesso è di rimanere esattamente dov'è, altrimenti rischia davvero di perdersi una volta per tutte. Erano passati tanti anni da quando la mamma ci aveva lasciato che in effetti non riuscivo più a ricordare il suo viso. Sapevo soltanto che era molto più bella di qualsiasi altra donna o perlomeno questo sosteneva il pater e aggiungeva che quanto più una donna è bella, tanto più le è difficile ritrovare se stessa. Dal primo momento in cui era scomparsa, io non avevo smesso di cercarla. Credevo di individuarla ogni volta che attraversavo la piazza di Arendelle e quando ero a Oslo dalla nonna la cercavo con gli occhi lungo tutta la via Carl-Johan. Però non l'avevo mai ritrovata. Poi un giorno il pater era arrivato a casa con una rivista greca, un giornale di moda, e lì in copertina e anche nelle pagine interne c'era la mamma. A giudicare da quelle immagini si sarebbe detto che ancora non aveva ritrovato se stessa perché quelle non erano fotografie della mia mamma. Si sforzava chiaramente di assomigliare a qualcuno di completamente diverso. Il pater e io avevamo concluso che era un vero peccato. La rivista era arrivata fino a noi al seguito dell'azia del pater che era stata in vacanza a Creta. In tutte le edicole dell'isola erano appese le immagini della mamma. Bastava pagare qualche dracma e la rivista era tua. A pensarci bene era quasi una presa in giro. Noi la cercavamo disperatamente da anni e lei, in quel paese lontano, si metteva in posa ed elargiva il suo luminoso sorriso a qualsiasi passante. «In che pasticcio sarà andata a cacciarsi?» aveva detto il pater, grantandosi la testa. Poi però aveva ritagliato le fotografie e le aveva appese in camera da letto. Era sempre meglio guardare le sembianze di qualcuno che assomigliava alla mamma piuttosto che non vederla affatto. Era stata così che il pater aveva deciso di andare in Grecia a cercarla. «Dobbiamo tentare di riportarcela a casa», Hans Thomas aveva detto. «Se non ci riusciamo, ho paura che finirà per annegarci in questa sua avventura della moda». Avevo già sentito dire che si può annegare in un bicchiere d'acqua. Ma in un'avventura era la prima volta. Oggi so che può capitare a chiunque. Alle porte di Hamburgo, durante una delle nostre soste autostradali, il pater cominciò a raccontare di suo padre. Erano cose che avevo già sentito non so quante volte, ma lì, con il frastuono di tutte quelle auto che ci sfrecciavano accanto, suonavano quasi diverse. Il fatto è che mio padre è un bastardo del tedesco. Adesso non mi vergogno più a dirlo, perché ormai ho imparato che i bastardi del tedesco non valgono per forza meno dei figli di chiunque altro. Però per me è facile dire così. Non ho provato sulla mia pelle che cosa vuol dire crescere senza padre in una cittadina di provincia nel sud della Norvegia. Probabilmente, arrivando in Germania, il pater ha pensato di descrivermi l'incontro tra suo padre e sua madre. Si sa che in tempo di guerra non è facile trovare da mangiare. E lo sapeva anche la nonna quel giorno che partì in bicicletta per andare nei boschi di Froland a raccogliere mirtilli rossi. Aveva appena 17 anni e per sua fortuna sforò. Quella spedizione per raccogliere mirtilli rossi fu l'avvenimento più importante della mia vita. Può sembrare strano che a determinare tutta la mia vita sia stato un fatto avvenuto oltre trent'anni prima della mia nascita. Eppure, se quella domenica la nonna non avesse forato, non sarebbe nato mio padre. E se non fosse nato lui, di certo io non sarei qui. La sua Frolanda accadde dunque che la nonna, con il suo cestino pieno di mirtilli rossi, forò una gomma. Naturalmente non aveva con sé il necessario per metterci una toppa. Ma se anche l'avesse avuto, non avrebbe saputo da dove incominciare. Fu allora che, pedalando per la stradina fra i boschi, arrivò un soldato tedesco. Sebbene tedesco, non si presentò con fare particolarmente marziale, anzi, fu molto, molto cortese con la ragazza dei mirtilli rossi che non sapeva più come tornare a casa. e poi lui si era portato dietro alcune toppe per riparare le camere d'aria. Se il nonno fosse stato una perfida canaglia, come si dava a intendere che fossero tutti i soldati tedeschi in Norvegia, avrebbe potuto tirar dritto per la sua strada. Naturalmente, però, non è questo il punto. Oltretutto, la nonna avrebbe dovuto fingere di non vederlo e respingere con sdegno l'aiuto delle forze germaniche d'occupazione. Il problema fu che al soldato tedesco piaceva molto quella ragazzina nei guai. Anche se poi, a pensarci bene, fu proprio lui la causa del guaio più grosso di tutta la sua vita. Ma questo sarebbe successo alcuni anni dopo. A questo punto del racconto, mio padre si accendeva sempre una sigaretta. Insomma, anche alla nonna piaceva il tedesco. E la cosa le fu fatale. non soltanto ringraziò il nonno per averle riparato la bicicletta, ma accettò addirittura che l'accompagnasse fino ad Arendal. Così non solo trasgredì alle regole, ma si comportò pure da autentica cretina. Su questo non sussiste il minimo dubbio. e il peggio fu che accettò pure di rivedere Ludwig Messner. Fu così che la nonna si innamorò di un soldato tedesco. Ahimè, non sempre si sceglie l'oggetto del proprio amore, ma almeno lei avrebbe dovuto decidere di non incontrarlo più prima di perdere completamente la testa. Cosa che non fece e così dovette subirne le conseguenze. I due continuarono a vedersi di nascosto. Se ad Arendal si fosse saputo che la nonna si trovava con un tedesco, tutte le porte dei buoni cittadini norvegesi le si sarebbero chiuse in faccia. Nella vita di tutti i giorni infatti l'unico modo di contrastare l'occupazione tedesca era evitare qualsiasi contatto con i tedeschi medesimi. Nell'estate del 1944 Ludwig Messner fu richiamato in Germania per difendere il terzo Reich sul fronte orientale. Non ebbe neppure la possibilità di salutare la nonna e dal momento in cui saltò sul treno ad Arendal sparì dalla sua vita. Da quel giorno infatti la nonna non ebbe mai più notizie di Ludwig Messner anche se per mesi per anni cercò di rintracciarlo. Alla fine si convinse che era accaduto durante la campagna di Russia. Probabilmente la nonna avrebbe finito per dimenticare sia il giro in bicicletta a Froland sia le cose avvenute in seguito se non che si ritrovò incinta. era avvenuto giusto prima che il nonno partisse per il fronte orientale ma lei stesso lo ignorava e lo scoprì soltanto diverse settimane dopo che lui se n'era andato. Gli avvenimenti successivi furono l'espressione di quella che il pater definisce la perversità degli esseri umani. e arrivata a questo punto in genere si accende un'altra sigaretta. Quando nacque mio padre mancavano pochi giorni alla liberazione. Era il maggio del 1945. Subito dopo la resa dei tedeschi la nonna fu presa dai suoi compatrioti i quali nutrivano un odio feroce per tutte le ragazze norvegesi che avevano avuto rapporti con soldati nemici. E purtroppo non erano neanche poche quelle povere figliole ma la peggio lebbero quelle che dagli invasori avevano avuto un figlio. La nonna si era messa con il nonno perché lo amava non perché era un nazista a dire il vero il nonno non era neppure nazista prima che lo rispedissero in Germania la nonna e lui avevano progettato di fuggire insieme in Svezia però circolava voce che le guardie di frontiera svedesi si fossero messe a sparare a vista sui disertori tedeschi che tentavano di passare il confine e così avevano rinunciato al progetto la gente di Arendal si avventò contro la nonna e la rapò a zero perché portasse il marchio della sua vergogna la presero anche a schiaffi e a calci sebbene avesse partorito da poco si può senz'altro dire che Ludwig Messner si era comportato meglio senza un capello in testa la nonna dovette rifugiarsi ad Oslo da zio Trigge e zia Ingrid per lei Arendal non era più un luogo sicuro pur essendo primavera con un tempo mite soleggiato doveva sempre girare con il capo coperto perché era pelata come un vecchio sua madre rimase ad Arendal e cinque anni più tardi la nonna vi tornò portando con sé mio padre né la nonna né il pater hanno mai cercato scusanti per ciò che accadde a Froland l'unico punto su cui ci si potrebbe interrogare è la durata del castigo sarebbe interessante per esempio domandarsi per quante generazioni deve essere spiato un crimine è chiaro che la nonna aveva la sua parte di colpa per aver fatto un figlio e del resto non lo negò mai trovo però un po' eccessivo prendersela con il bambino in pratica mi chiedo se sia stato giusto o no penalizzare anche lui ho riflettuto a lungo su questo problema il pater era quello che veniva definito un frutto del peccato ma l'intera umanità non risale forse ad adame ed eva forse il paragone non calza perfettamente ma nel primo caso si trattava di mele nell'altro di mirtilli rossi e in fondo una camera d'aria non è poi così diversa da un serpente comunque ogni madre sa che non potrà passare il resto dei suoi giorni a rodersi l'anima per un bambino che ormai è nato e in ogni caso secondo me il disonore non dovrebbe mai pensare sui figli anche un bastardo del tedesco dovrebbe aver diritto alle gioie della vita ed è proprio su questo punto che il pater e io abbiamo avuto qualche dissenso mio padre è dunque cresciuto con questo marchio e anche se ad Arendal la gente non prendeva più abbastonate le sgualdrine dei tedeschi i ragazzi continuavano a infierire sui loro figli i bambini sono infatti bravissimi a imparare dagli adulti le più raffinate malvagità ragion per cui l'infanzia del pater fu una prova durissima a 17 anni decise che ne aveva avuto abbastanza e sebbene fosse profondamente affezionata alla sua città come tutti gli abitanti di Arendal del resto non vide altra soluzione che imbarcarsi come mozzo e andarsene per la sua strada fu di ritorno sette anni dopo aveva già conosciuto la mamma a Christiansand si ristabilirono in una vecchia casa sull'isola di Isoi ed è lì che sono nato il 29 febbraio 1972 alla luce di questi fatti è chiaro che anch'io devo prendermi carico della mia parte di colpa per quanto avvenne a Froland e quello che si chiama peccato originale con la sua infanzia da bastardo del tedesco e dopo tutti quegli anni per mare il pater si era messo a bere forte un po' troppo forte per i miei gusti sosteneva di bere per dimenticare ma la faccenda non quadrava affatto ogni volta che beveva infatti incominciava a rinvangare la storia della nonna e del nonno e a tirare fuori la sua infanzia di bastardo del tedesco talvolta si metteva anche a piangere per cui credo che semmai l'alcolo lo facesse ricordare ancora meglio dopo avermi sciorinato per l'ennesima volta la storia della sua vita mentre facevamo una pausa sigaretta sull'autostrada alle porte di Hamburgo il pater mi disse e poi la mamma ci ha lasciato quando ha incominciato ad andare all'asilo lei ha trovato un lavoro come insegnante di danza quindi si è messa a fare la fotomodella doveva andare abbastanza spesso a Oslo e qualche volta anche a Stoccolma un giorno non è più tornata a casa le uniche notizie che abbiamo ricevuto ci sono arrivate con una lettera nella quale lei spiegava che aveva trovato un ingaggio all'estero e che non sapeva quando sarebbe rientrata quel genere di cose che si dicono quando si deve stare via un paio di settimane insomma e sono ormai otto anni da quando è partita anche questo l'avevo già sentito altre volte però poi il pater aggiunse nella mia famiglia è sempre mancato qualcuno Hans Thomas c'è sempre stato qualcuno che era andato a perdersi chissà dove quasi fosse una maledizione che si trasmette di padre in figlio alla parola alla parola maledizione senti un brivido lungo la schiena continuai a pensarci durante tutto il viaggio in macchina e giunsi alla conclusione che era vero il pater e io fra tutti e due avevamo sofferto della mancanza del padre del nonno della moglie e della mamma lui però aveva in mente anche altri episodi quando era ancora piccola sua madre aveva perso il padre travolto da un albero che gli era caduto addosso mentre lo abbatteva per cui anche lei aveva vissuto un'infanzia senza papà forse per questo aveva avuto un figlio da un soldato tedesco che poi era stato richiamato ed era caduto sul fronte orientale e forse per questo quel ragazzo si era sposato con una donna andata fino ad Atene alla ricerca di se stessa 2 di picche Dio se ne sta tranquillo in cielo a ridere degli uomini che non credono in lui al confine con la Svizzera ci fermammo ad un insolito distributore con un'unica pompa di benzina da una casa verde uscì un omino così piccolo che poteva essere soltanto una specie di nano il pater tirò fuori una grossa carta stradale e domandò qual era il percorso migliore per passare le Alpi e arrivare a Venezia il nano ci rispose con una vocina chioccia indicandoci le località sulla carta parlava soltanto tedesco ma il pater tradusse per me secondo l'omino ci sarebbe convenuto per notare in un paese che si chiamava Dorf mentre parlava il nano mi squadrava da capo a piedi neanche fosse il primo ragazzino che vedeva in vita sua credo che mi avesse preso in simpatia perché avevamo esattamente la stessa statura ormai pronti per ripartire lui ci raggiunse di corsa portando un astuccio verde con dentro una piccola lente di ingrandimento prendi questa mi disse tutto affannato il pater traduceva l'ho ritagliata da un pezzo di vetro che una volta ho trovato nella pancia di un capriolo ferito da una fucilata a Dorf ti potrà servire e come se ti potrà servire ragazzo mio ti dirò una cosa non appena ti ho visto ho capito che per il tuo viaggio potresti proprio aver bisogno di una piccola lente di ingrandimento incominciava a chiedermi se Dorf non fosse un paese tanto piccolo da doverlo cercare con la lente comunque prima di salire in macchina gli strinsi la mano per ringraziarlo del dono la sua mano era più piccola della mia e anche molto più fredda il pater abbassò il finestrino per fare al nano un cenno di saluto e lui rispose agitando le corte braccia venite da Arendal vero? ci chiese mentre il pater metteva in moto la Fiat esatto rispose lui ripartendo come faceva a sapere che veniamo da Arendal chiesi il pater mi guardò nello specchietto retrovisore non gliel'hai detto tu? niente ma sì insistette lui in ogni caso io non gliel'ho detto ero certo di non averne parlato e comunque se anche avessi detto che venivamo da Arendal il nano non avrebbe capito visto che non spiccicavo una sola parola di tedesco come mai era così piccolo secondo te domandai quando arrivammo all'autostrada non lo sai fu la risposta del pater quel tipo è così piccolo perché è un uomo artificiale lo ha creato uno stregone ebreo qualche secolo fa era chiaro che scherzava ma mi chiesi allora è vecchio di molti secoli non sai neppure questo disse il pater gli uomini gli uomini artificiali non invecchiano come noi è l'unico vantaggio di cui godono ma non è un vantaggio da poco perché significa che non muoiono mai durante il viaggio estrassi la lente dall'astuccio per scoprire se il pater avesse in testa i pidocchi non ne trovai però sulla nuca c'era qualche brutto pelo subito dopo la frontiera con la Svizzera scorgemmo un cartello che indicava la deviazione per Dorf svoltammo imboccando una stradina tortuosa che si arrampicava su per le Alpi lì era quasi tutto deserto ad eccezione di qualche raro chalet tra gli alberi in cima alle alture cominciò a fare buio avevo così sonno che gli occhi mi si chiudevano ero quasi addormentato quando mi svegliai di soprassalto il pater si era fermato pausa sigaretta annunciò uscimmo all'aria fresca delle Alpi era una notte fonda ormai sopra di noi il cielo pareva un sipario illuminato da migliaia di minuscole lampadine da un millesimo di watt il pater si portò sul ciglio della strada per fare pipì poi tornò verso di me si accese una sigaretta e indicando il cielo disse siamo davvero dei nanerottoli ragazzo mio siamo omini di lego che arrancano da arendal fino ad atene su una vecchia fiat ma è proprio tutta da ridere là fuori cioè fuori di questo bruscolo su cui viviamo ci sono miliardi e miliardi di galassie Hans Thomas ognuna di esse è fatta di centinaia di migliaia di stelle e soltanto Dio sa quanti altri mondi esistono in giro per l'universo scosse la cenere della sigaretta e aggiunse io non credo che siamo soli ragazzo mio no non lo siamo affatto l'universo brulica di vita il problema è che quando ce lo domandiamo non riceviamo mai una risposta le galassie sono simili a isole deserte non toccate dai servizi di navigazione si potevano dire molte cose del pater ma non che la sua conversazione fosse noiosa non avrebbe dovuta contenire in tassi di fare il macchinista fosse dipeso da me avrebbe ricevuto uno stipendio dallo Stato in qualità di filosofo ufficiale lui stesso una volta aveva detto qualcosa del genere ci sono ministeri per le cose più astruse aveva affermato però non esiste un ministero della filosofia persino le grandi nazioni sembrano convinte di poterne far a meno condizionato com'era da pesanti fattori ereditari talvolta cercavo di inserirmi nei discorsi filosofici che il pater intavolava quando non parlava della mamma questa volta dissi per quanto l'universo sia grande non significa per forza che la nostra terra sia uno scherzo lui alzò le spalle gettò il mozzicone di sigaretta sul terrapieno e se ne accese un'altra in realtà quando parlava della vita e degli astri non era mai troppo interessato a sapere che cosa ne pensavano gli altri aveva idee troppo chiare per curarsi di quelle altrui infatti anziché ribattere alla mia obiezione disse chissà da dove diavolo arriva la gente come noi Hans Thomas ci hai mai pensato a questo? sicuro che ci avevo pensato sapevo però che la mia risposta non lo interessava davvero quindi lo lasciai proseguire ci conoscevamo da tanto tempo il pater e io e avevo imparato che era meglio comportarsi così sai che cosa disse la nonna una volta? disse che aveva letto nella Bibbia che Dio se ne sta tranquillo in cielo a ridere degli uomini che non credono in lui e perché chiesi era sempre più facile domandare che rispondere ok cominciò lui se esiste un Dio che ci ha fatti allora in un certo senso noi ai suoi occhi siamo esseri artificiali parliamo e discutiamo ci accapigliamo e lottiamo ci troviamo e ci lasciamo e infine la morte ci sottrae ai nostri cari capisci siamo così dannatamente in gamba facciamo la bomba atomica e i missili che vanno sulla luna ma nessuno di noi si chiede da dove veniamo siamo qui e basta in riga sull'attenti per essere passati in rivista e allora Dio ride di noi proprio così se fossimo riusciti noi a fare un uomo artificiale Hans Thomas e questo uomo artificiale si mettesse a fare lunghi discorsi sulle quotazioni in borsa o sulle scommesse dei cavalli senza porsi il più semplice e il più importante dei quesiti cioè da dove ha preso origine noi ci faremmo una gran bella risata e prima di proseguire se la fece lui la risata dovremmo leggere un po' più spesso la Bibbia ragazzo mio dopo aver creato Adam ed Eva Dio se ne andava in giro per il paradiso terrestre a spiarli e quando dico spiarli intendo letteralmente si nascondeva dietro i cespugli e gli alberi e seguiva con attenzione tutto ciò che facevano capisci non riusciva a staccare lo sguardo da loro tanto era compreso di queste sue creature e non posso biasimarlo no davvero lo capisco fin troppo bene spense la sigaretta fine della pausa tutto sommato pensai sono un ragazzo fortunato prima di arrivare in grecia avrei potuto approfittare a occhio e croce di 30 o 40 di quelle pause sigaretta in macchina tirai di nuovo fuori la lente di ingrandimento che mi aveva dato il nano misterioso decisi di adoperarla per esaminare il creato da vicino se mi fossi sdraiata a terra e avessi osservata abbastanza a lungo una formica o un fiore magari avrei potuto carpire alla natura qualcuno dei suoi segreti così per Natale avrei potuto regalare al pater la pace dell'anima ci nerpicavamo sempre più sulle montagne e Dorf sembrava non arrivare mai dormi Hans Thomas mi domandò il pater dopo un po' proprio nel momento in cui stavo per assopirmi per non dire bugie risposi di no e così mi svegliai del tutto sai fece lui mi sto chiedendo se il nano non ci abbia presi in giro non era vero che la lente si trovava nella pancia di un capriolo bofonchiai sei stanco Hans Thomas parlavo della strada perché mai doveva spedirci per queste lande deserte anche l'autostrada attraversa le Alpi saranno passati più di 40 chilometri da quando ho visto l'ultima casa per non parlare di un posto in cui fermarci ero così stanco che non avevo nemmeno la forza di rispondere pensavo soltanto che forse avrei superato il record mondiale dell'affetto di un figlio nei confronti del padre no non era nato per fare il macchinista avrebbe dovuto piuttosto essere autorizzato a predicare sui misteri della vita insieme con gli angeli del cielo gli angeli sono molto più saggi degli uomini mi aveva insegnato il padre non sono intelligenti quanto dio però capiscono all'istante senza doverci riflettere su tutto quello che gli uomini possono comprendere perché diavolo ci doveva spedire proprio a Dorf continuò il padre sta a vedere che ci ritroviamo nel paese dei nani questa fu l'ultima cosa che sentì prima di addormentarmi sognai un villaggio popolato di nani erano uno più gentile dell'altro parlavano tutti insieme di tantissime cose ma se si domandava loro in che luogo si trovavano o da dove arrivavano nessuno sapeva rispondere ricordo soltanto che il padre mi tirò fuori dalla macchina prendendomi in braccio e mi portò a letto nell'aria c'era odore di miele e una voce di donna diceva ya ya aber naturalich main her tre di picche ma non è un po' strano decorare un prato così sperduto lontano mille miglia da tutto soltanto il mattino seguente al risveglio capì che eravamo arrivati a Dorf il padre dormiva nel letto accanto al mio erano le otto passate ma pensai che avesse bisogno di riposare ancora un poco per tardi che fosse prima di andare a dormire si faceva sempre un bicchierino in realtà era lui che lo chiamava un bicchierino io sapevo che i bicchieri potevano essere belli grossi e anche molti più di uno dalla finestra vedevo sotto di noi un grande lago mi vestì in fretta e scesi a pian terreno lì incontrai una grassa signora decisamente cordiale dal momento che tentò di parlarmi senza conoscere una sola parola di norvegese Hans Thomas ripeteva quindi se ben capivo il pater aveva fatto le presentazioni mentre dormivo usci sul prato e mi avviai verso un'incredibile altalena che sembrava aspettare proprio me si spingeva così in alto quell'altalena alpina che potevo vedere oltre i tetti delle case più su mi spingevo più lontano vedevo già pregustavo il risveglio del pater sarebbe sicuramente rimasto di stucco vedendo Dorfo alla luce del giorno perché Dorfo era un autentico paese di bambola ai piedi delle alte montagne innevate si snodavano due o tre stradine nelle quali spiccavano alcuni negozietti dall'alto della mia altalena mi pareva di guardare un villaggio di Legoland la locanda in cui alloggiavamo era una costruzione bianca su tre piani con le imposte rose e file di minuscole finestre dai vetri colorati proprio quando incominciava a stufarmi del dondolio uscì il pater a chiamarmi per la colazione entrammo nella sala da pranzo più piccola e più accogliente che avessi mai visto c'era posto a malapena per quattro tavoli comunque il pater ed io eravamo gli unici clienti accanto c'era un grande ristorante chiuso però intui che il pater si sentiva la coscienza sporca per aver dormito più a lungo di me per cui domandai se per colazione potevo prendere una gazzosa al posto del genuino latte delle alpi lui accondiscese senza fiatare e in contropartita ordinò un viertel il nome suonava piuttosto interessante però il liquido che gli versarono nel bicchiere assomigliava in maniera alquanto sospetta al vino rosso capì che non avremmo proseguito il viaggio fino al mattino dopo il pater mi spiegò che alloggiavamo in una gas house cioè in una casa degli ospiti a parte le finestre però non mi sembrava molto diversa da una normale locanda la gas house si chiamava sconer waldemar e il lago waldemais chiaramente avevamo preso tutti e due il nome da un certo waldemar ci ha imbrogliato annunciò il pater dopo aver bevuto una sorsata del suo biertel capì subito che parlava del nano probabilmente era lui che si chiamava waldemar abbiamo fatto un giro dell'oca mi informai giro dell'oca siamo esattamente alla stessa distanza da venezia di quando eravamo al distributore esatta al chilometro il che significa che tutta la strada dal distributore fin qua potevamo risparmiarcela maledizione esclamai a forza di stare con il pater avevo finito per adottare la sua parlata da marinaio non mi restano che due settimane di ferie continuò lui e non possiamo far conto di trovare la mamma non appena messo piede ad Atene potevamo proseguire oggi stesso gli feci notare dato che non ero certo meno ansioso di lui riguarda la mamma e chi l'ha detto che oggi non proseguiamo non mi degnai di rispondere limitandomi a indicare il suo viertel allora scoppiò a ridere la sua risata forte e squillante contagiò anche la grassona la quale non aveva idea di che cosa stavamo dicendo siamo arrivati qui che era luna di notte mi spiegò per cui penso che ci siamo meritati un giorno di riposo alzai le spalle di solito ero io che facevo storie quando i tragitti si allungavano oltre misura senza una sosta adeguata dunque non ebbi animo di protestare mi chiedevo soltanto se avesse davvero deciso di riposarsi o se piuttosto non intendesse passare il resto della giornata a ingollare bevambe alcoliche nel frattempo il pater si era messo a rovistare nella macchina per tirare fuori il minimo bagaglio necessario la notte prima vista l'ora tarda evidentemente non aveva avuto voglia di cercare nemmeno lo spazzolino da denti quando fu di ritorno decidemmo di fare una bella passeggiata la signora della locanda ci indicò una montagna da cui si godeva una vista magnifica aggiungendo però che era già piuttosto tardi se volevamo salire fin lassù e ridiscendere allora il pater ebbe uno dei suoi colpi di genio che cosa si fa quando si scenderebbe volentieri da una montagna scoscesa ma non si ha voglia di arrampicarsi fino in cima si domanda se c'è una strada carrozzabile è così semplice la signora ci rispose che la strada c'era ma ci fece notare che se andavamo su in macchina e scendevamo a piedi poi avremmo comunque dovuto risalire a piedi per andare a riprendere la vettura vorrà dire che prenderemo un taxi decise il pater e così fu il guidatore ci prese per matti ma quando il pater gli sventolò sotto il naso qualche banconota fece esattamente quello che gli avevamo chiesto la signora della locanda era stata più brava del nano del distributore nell'indicarci l'itinerario da quando avevamo lasciato la Norvegia non c'eravamo mai trovati di fronte ad una montagna e ad un panorama così mozzafiato sotto di noi lontanissimo scorgevamo un piccolo stagno affiancato da un agglomerato di microscopici puntini che in realtà erano case si trattava del Werder Marsee e di Dorf sebbene fossimo in piena estate lì in cima al monte il vento gelido si infilava fin sotto i vestiti il pater mi spiegò che eravamo ad un'altitudine molto superiore a quella di qualsiasi montagna norvegese io trovavo l'idea affascinante ma lui sembrava deluso mi confidò di aver organizzato quell'escursione soltanto perché sperava di scorgere il mar mediterraneo magari si era pur immaginato di vedere che cosa stava facendo la mamma in Grecia quando andavo per mare mi ero abituata esattamente all'opposto spiegò potevo restare in coperta per ore per giorni interi senza mai vedere terra cercai di immaginarmi come potesse essere era molto meglio continuò il pater come se mi avesse letto nel pensiero quando non posso vedere il mare mi sento in gabbia ci accingemmo alla discesa seguendo un sentiero che si insinuava tra grandi alberi rigogliosi anche lì c'era odore di miele a un certo punto ci sedemmo a terra per riposarci tirai fuori la lente mentre il pater si accendeva una sigaretta trovai una formica che si arrampicava lungo un bastoncino ma non voleva starsene ferma era impossibile studiarla da vicino allora la scossi via e in mancanza d'altro mi concentrai sul bastoncino era davvero bello così ingrandito ma quell'osservazione non accrebbe di molto il mio sapere all'improvviso sentimmo un fruscio il pater salto su come se temesse che in quella zona si aggirassero pericolosi banditi ma era soltanto un innocente capriolo l'animale rimase immobile per qualche secondo a fissarci poi con un balzo si rituffò nel folto della foresta sbirciai in direzione del pater e constatai che uome e animale si erano presi entrambi un gran bello spavento da quella volta ho pensato sempre al pater come ad un capriolo però non ho mai osato dirglielo pur avendo bevuto un viartel per colazione il pater quel mattino era in piena forma scendevamo a balzelloni giù per il pendio fino a quando improvvisamente non ci trovammo davanti una formazione di sassolini bianchi ordinatamente disposti in fila in una piccola radura tra gli alberi erano almeno qualche centinaio tutti lisci e rotondi e nessuno più grande di una zolletta di zucchero il pater si arrestò di botto grattandosi la testa alquanto perplesso credi che crescano qui domandai lui scosse la testa gatta cicova Hans Thomas ma non è un po' strano decorare un prato così sperduto lontano mille miglia da tutto lui non rispose subito però capì che era d'accordo con me non riuscire a trovare una spiegazione ecco una cosa che al pater proprio non andava giù in casi del genere mi ricordava un poco Sherlock Holmes dopo un attimo di silenzio disse ricorda quasi un cimitero ogni singola pietruzza ha il suo posto assegnato di pochi centimetri quadrati mi aspettavo che dicesse che gli abitanti di Dorf avevano sepolto lì alcuni dei loro mini di Lego ma persino al pater quell'ipotesi sarebbe suonata assurda forse sono stati dei bambini che hanno seppellito alcune coccinelle borbottò poco convinto probabile dissi mi ero chinato su uno dei sassi con la lente di ingrandimento di certo non sono state le coccinelle a deporre i sassolini come se fossero uova lui scoppiò in una risata nervosa mi mise un braccio intorno alle spalle e proseguimmo lungo il pendio a passo più tranquillo dopo un altro tratto passammo davanti ad una capanna di tronchi credi che ci abiti qualcuno chiesi ma certo rispose il pater e come fai ad esserne così sicuro lui fece un cenno con la mano indicando il camino ne usciva una sottile voluta di fumo proprio sotto la capanna ci dissetammo con l'acqua che sgorgava da un tubo infilato nel tetto di un ruscello il pater sostenne che era una fontana 4 di picche l'oggetto che avevo in mano era un libro in miniatura quando tornammo a Dorf stava per calare la sera adesso sarebbe il caso di pensare alla cena annunciò il pater il ristorante grande era aperto quindi non fummo obbligati a incastrarci nella minuscola sala da pranzo a uno dei tavoli sedevano alcuni abitanti del paese davanti a loro c'erano dei boccali di birra mangiammo salsicce con crauti svizzeri per dessert ci servirono una specie di torta di mele con panna delle Alpi dopo cena il pater rimase seduto a tavola per assaggiare l'acquavite delle Alpi come disse lui stesso stare lì a guardarlo era mortalmente noioso quindi presi una bottiglietta di gazzosa al lampone e me ne andai in camera dove lessi per l'ennesima volta gli stessi topolino norvegesi che ormai conosceva a memoria poi mi misi a fare un solitario provai con conno colondraic ma per due volte subito dopo aver sistemato le carte non riuscì a proseguire così tornai giù al ristorante volevo tirarmi dietro il pater in camera prima che fosse troppo ubriaco persino per raccontare le sue storie dei sette mari era però evidente che non aveva finito di assaggiare l'acquavite delle Alpi inoltre aveva attaccato discorso in tedesco con alcuni locali puoi andare a fare un giro in paese così vedi com'è mi suggerì pensai che era una vigliaccata da parte sua non volermi accanto oggi come oggi comunque sono contento di aver fatto come diceva lui mi sa che sono nato sotto una stella migliore della sua il giro in paese richiese esattamente cinque minuti tanto il posto era piccolo di fatto consisteva in un'unica via davvero non si poteva dire che gli abitanti di Dorf avessero una fantasia sfrenata ero decisamente furibondo con il pater che se ne stava ad assaggiare l'acquavite delle Alpi con i locali acquavite delle Alpi indubbiamente il nome suonava più gradevole e meno offensivo di grappa una volta il pater aveva affermato che con la salute che si ritrovava non poteva permettersi di non bere e io ero rimasto lì rimuginando a lungo su quella frase prima di capirla di solito la gente afferma l'esatto contrario ma era ammissibile che il pater rappresentasse l'eccezione che conferma la regola non per nulla lui era un bastardo del tedesco nella Weldermarstrasse tutti i negozi erano chiusi ma davanti alla drogheria si era fermato un furgoncino rosso per consegnare della merce una ragazzina lanciava una palla contro un muro su una panchina sotto un grande albero un vecchietto fumava la pipa questo era tutto anche se c'erano tante deliziose casette da fiabba per me quel paesino delle Alpi era da morire di noia in ogni caso non capivo a che cosa potesse servirmi lì una lente di ingrandimento l'unica cosa che mi rinfrancava un poco era l'idea che il giorno dopo saremmo ripartiti nel pomeriggio o verso sera saremmo arrivati in Italia e da lì avremmo attraversato la Jugoslavia per poi raggiungere la Grecia e in Grecia in Grecia forse avremmo trovato la mamma solo a pensarci mi veniva il capogiro dall'altro lato della strada c'era una piccola panetteria era l'unica vetrina che non avevo ancora guardato e attraversai per andare a vederla accanto ad un piatto di biscotti stantii c'era una boccia di vetro con dentro un pesce rosso dal bordo superiore del vaso mancava una grossa scheggia aveva pressa poco la dimensione della lente che mi aveva dato il nano misterioso al distributore di benzina estrassi la lente dalla tasca tolsi la custodia e la studiai da vicino era di poco più piccola del pezzo mancante alla boccia il minuscolo pesce rosso nuotava in cerchio nel vaso di vetro viveva sicuramente di briciole di biscotto chissà forse un capriolo aveva cercato di arraffarsi il pesce e invece si era ritrovato con un pezzo del vaso nella pancia all'improvviso i raggi del sole calante inondarono la vetrina illuminando la boccia di vetro allora vedi che il pesce non era soltanto rosso ma anche arancione giallo e verde e in quell'attimo anche l'acqua e la boccia si tinsero delle tonalità del pesce in un'esplosione di colori che ricordava la tavolozza di un pittore più fissavo il pesce il vetro e l'acqua più mi scordavo di dove mi trovavo per alcuni istanti mi parvi addirittura di essere io il pesce nella boccia mentre lui se ne stava fuori a fissarmi a bocca aperta mentre fissavo il pesce nel vaso scoprì all'improvviso che dietro il banco della panetteria c'era un vecchio dai capelli bianchi mi stavo osservando poi mi fece segno di entrare trovai strano che la panetteria fosse aperta di sera da prima mi voltai a guardare verso lo snoker waldermar nel caso il pater avesse finito di assaggiare l'acquavite delle alpi non vedendolo aprì la porta del negozio ed entrai grus gott salutai in tono solenne era l'unica cosa che sapevo dire in tedesco e significava salute a dio o qualcosa del genere capì capì subito che il panettiere era un uomo gentile norvegese dissi battendomi il petto per fargli intendere che non capivo la sua lingua il vecchio appoggiò i gomiti sul largo piano di marmo fissandomi davvero mi rispose in norvegese anch'io ho vissuto in norvegia tanti tanti anni fa adesso ho dimenticato quasi alles norvegese si voltò per aprire un frigorifero vetusto e ne estrasse una bottiglia di gazzosa che stappò e posò sul banco un dudu ti piace la gazzosa disse prego mio younger amico è una ser buona sgazzosa portai la bottiglia alla bocca e ne bevi qualche sorsata era ancora migliore di quella che avevo preso alla snow der walder mar credo che fosse alla pera il vecchio dai capelli bianchi si appoggiò di nuovo al banco di marmo e sussurrò è buona squisita risposi jahul disse ancora sottovoce questa è una serra gett gazzosa ma ce n'è auco un'altra dorf quella è ancora più buona però non è in commercio hai capito feci segno di sì aveva un modo così strano di sussurrarmi le cose che quasi mi faceva paura ma poi guardai i suoi occhi cerulei e non vi trovai altro che dolcezza vengo da arendalla spiegai il pater e io andiamo in grecia a cercare la mamma lei accidenti è andata a perdersi nel mondo della moda il vecchio mi guardò con aria corrucciata sast du arendalla amico mio ed è andata a perdersi probabilmente ce n'è più di uno che si è perso anch'io alcuni anni vissuto nella grimstad nella città cupa certo nessuno ricorda me alzai lo sguardo su di lui aveva davvero vissuto a grimstad era la città accanto alla nostra era lì che il pater e io andavamo d'estate con la barca non è molto lontana da arendalla farfugliai no non è e sapevo che un giorno sarebbe arrivato qui a Dorfo un younger ragazzo sì prendersi il tesoro adesso non è più soltanto mio all'improvviso sentì il pater che mi chiamava dalla sua voce capì che si era scolato una buona dose di acquavite delle alpi mille grazie per la gazzosa ma ora devo andare il pater mi chiama vater ghià aber naturalic amico mio però aspetto un secondo mentre tu guardavi pesce io infornavo teglia di panini al latte io ho visto che avevi lente allora capito che tu eri giovanotto giusto tu potrai berstein figlio mio tu potrai berstein il vecchio panettiere sparì nel retro bottega un attimo dopo era di ritorno con quattro panini freschi che ripose in un sacchetto di carta poi mi porse il sacchetto dicendo con aria grave nur una cosa wiktig tu devi promettere me devi nascondere panino più grosso tenerlo per ultimo e mangiarlo quando sei solo solissimo e dopo non dovrai mai raccontarla a nessuno hai capito certo risposi e ancora mille grazie qualche istante dopo ero di nuovo in strada tutto era accaduto così in fretta che non ricordo più nulla fino al momento in cui incontrai il pater a metà strada fra la minuscola panetteria e lo snoker a Gualdemar gli raccontai soltanto che un vecchio panettiere arrivato lì da Grimstad mi aveva regalato una bottiglia di gazzosa e quattro panini al latte il pater il pater credeva che fantasticassi però tornando alla locanda mangiò uno dei panini io ne mangiai due quello più grosso lo nascosi nel sacchetto il pater si addormentò non appena toccò il letto io invece rimasi sveglio un bel po' pensando al vecchio panettiere e al pesce rosso alla fine mi venne una tale fame che mi alzai dal letto per andare a prendere il sacchetto con l'ultimo panino mi misi a sedere su una sedia accanto al letto e diede un morso senza accendere la luce all'improvviso senti sotto i denti qualcosa di duro strappai via la mollica e mi ritrovai tra le mani un oggetto delle dimensioni di una scatola di fiammiferi il pater russava nel suo letto accesi una luce sopra la sedia l'oggetto che avevo in mano era un libro in miniatura sulla copertina c'era scritto la gazzosa purpurea e l'isola incantata incominciai a sfogliarlo pur essendo piccolissimo era formato da più di cento pagine tutte coperte da una specie di micro scrittura lo apri alla prima pagina e tentai di decifrare quelle lettere microscopiche assolutamente impossibile allora mi ricordai della lente di ingrandimento che mi aveva regalato il nano del distributore presi i pantaloni in una delle tasche trovai la lente la estressi la estressi dal suo astuccio verde e la piazzai sopra la prima pagina le lettere erano sempre minuscole però avvicinando bene l'occhio alla lente diventavano grandi abbastanza da essere leggibili cinque di picca senti il vecchio camminare in solaio figlio mio caro devi permettermi di chiamarti così mentre sono qui seduto a scrivere la storia della mia vita so che un giorno tu arriverai al villaggio magari passerai davanti alla panetteria nella Gueldmarstrasse e ti fermerai a guardare il vaso con il pesce rosso tu non saprai perché ti trovi lì io invece saprò che tu sei venuto a Dorf per dare seguito alla storia della gazzosa purpurea e dell'isola incantata è il gennaio 1946 e sono ancora un uomo giovane quando mi incontrerai fra 30 40 anni o forse più sarò un vecchio con i capelli bianchi scrivo quindi queste cose anche per il giorno in cui non ci sarò più la carta su cui scrivo è come una zattera di salvataggio figlio mio sconosciuto una zattera di salvataggio può navigare tra venti e tempeste prima di approdare forse a un porto lontano di salvataggio alcune di queste zattere però seguono tutt'altra rotta navigano verso la terra del levante da qui non c'è ritorno come potrò sapere che sarai proprio tu a riprendere le fila di questa storia lo capirò quando verrai verso di me figlio riconoscerò il segno che porterai scrivo in norvegese in modo che tu mi capisca ma anche perché così gli abitanti di Dorf non potranno leggere la storia dei nani il segreto dell'isola incantata farebbe sensazione e la sensazione è come la novità non ha mai vita lunga suscita interesse per un giorno e poi cade nell'oblio la storia dei nani non dovrà fare una fine del genere è meglio che un solo uomo ne venga a conoscenza piuttosto che mille la dimentichino ero uno dei molti che dopo quella lunga guerra cercavano una nuova dimora mezza Europa si era improvvisamente trasformata in un campo profughi tutta una parte di mondo si era messo in cammino tuttavia non eravamo semplici fuoriusciti politici eravamo anime senza patria alla ricerca di se stesse fu costretta a lasciare la Germania per costruirmi una nuova esistenza sebbene come sotto ufficiale dell'esercito del terzo Reich le possibilità di fuga fossero davvero scarse non soltanto mi trovavo in una nazione in frantumi ma da quel paese del nord mi ero anche portata appresso un amore spezzato il mondo intero giaceva ai miei piedi simile ad un ammasso di cocci sapevo di non poter vivere in Germania ma non potevo neppure ritornare in Norvegia alla fine riuscì a passare le montagne e a raggiungere la Svizzera dopo aver vagabondato per alcune settimane in uno stato di assoluta confusione incontrai a Dorf il vecchio panettiere Albert Klages arrivavo dalle montagne esausto per la fame e per il lungo girovagare scorsi all'improvviso un paesino la fame mi spronò a correre come un cervo inseguito nel bosco poco dopo mi accasciai davanti ad una vetusta capanna di tronchi sentivo un ronzare di api l'aria odorava di latte e di miele fu di certo il vecchio il vecchio panettiere a sollevarmi e a portarmi dentro mi svegliai sdraiato su una panca e vidi seduto su una sedia a dondolo un uomo dai capelli bianchi che fumava la pipa non appena si accorse che aveva aperto gli occhi mi fu accanto sei arrivata a casa caro figliolo mi disse con una voce che mi scaldò il cuore sapevo che un giorno saresti giunta alla mia porta per prendere il tesoro ragazzo mio poi probabilmente ricaddi in un sonno profondo quando mi svegliai ero solo nella capanna mi alzai e uscì sulla veranda il vecchio era seduto lì chino su un tavolo di pietra sul piano massiccio era posato un delegato vaso di vetro nel vaso notava un pesce rosso dalle sfumature cangianti era quasi incredibile che un piccolo pesce arrivato da qualche mare lontano potesse nuotare con tanta vitalità proprio lì in mezzo alle montagne più alte d'Europa un pezzo di mare vivo era stato issato fino in cima alle alpi svizzere grus gott salutai il vecchio lui si voltò scrutandomi con occhi pieni di dolcezza mi chiamo Ludwig disse e io sono Albert Klages rispose lui poi rientrò nella capanna ma ne uscì quasi subito recando latte pane formaggio e miele infine indicando il paesino sotto di noi mi rivelò che si chiamava Dorf e che lui vi possedeva una piccola panetteria fui ospite del vecchio per alcune settimane ben presto incominciai ad andare con lui alla panetteria Albert mi insegnò a fare il pane le brioche le ciambelle e ogni tipo di torte e di biscotti avevo sempre saputo che gli svizzeri erano veri maestri nell'arte dei dolci Albert era particolarmente felice di avere qualcuno che lo aiutasse a svuotare i pesanti sacchi di farina ma ero giovane e cercavo di entrare in contatto con gli altri abitanti di quel piccolo paese così mi capitava di andare alla vecchia locanda sconer waldemar credo che la gente avesse preso a benvolermi sapevano benissimo che ero stato un soldato tedesco ma nessuno mi faceva domande sul mio passato una sera la conversazione cadde su Albert il mio generoso ospita gli manca un venerdì esclamò il contadino fritz andrè beh se per quello manca anche al panettiere precedente aggiunse il vecchio commerciante enrich albrecht quando mi inserì nella conversazione domandando che cosa intendessero mi risposero in maniera evasiva avevo bevuto qualche caraffetta di vino e un'ondata di calore mi avvampò il viso datemi una risposta chiara oppure smettetela di dire malignità sulla persona che fa per voi il pane che mangiate ogni giorno esclamai di albert per quella sera non si parlò più tuttavia qualche settimana dopo fritz presa a pungolarmi ma tu lo sai dove va a prendere tutti i suoi pesci rossi mi domandò avevo notato che da quando abitavo con il vecchio panettiere la mia persona suscitava un interesse particolare non sapevo che ne avesse più di uno risposi e quello che possiede l'avrà comprato in un negozio di animali a Zurigo suppongo il contadino e il commerciante scoppiarono a ridere ne a ben di più spiegò il contadino una volta che mio padre tornava dalla caccia albert stava facendo prendere aria a tutti i suoi pesci rossi gli aveva messi al sole tutti quanti e non erano davvero pochi mettitelo bene in testa garzone di panettiere inoltre pare che non abbia mai messo piede fuori del paese si intromise il commerciante abbiamo la stessa età lui e io e non l'ho mai visto lasciare questo posto c'è chi dice che è uno stregone sussurrò il contadino sostengono che non solo impasta pane e dolci ma che quei suoi pesci lui li fa comunque una cosa è certa non li ha presi nel guadermarsi in verità anch'io cominciava a domandarmi se albert non ce l'asse davvero qualche segreto alcune sue frasi mi tornavano alla mente come un bizzarro ritornello sei arrivato a casa caro figliolo sapevo che un giorno saresti giunta alla mia porta per prendere il tesoro ragazzo mio non volevo di certo ferire il vecchio panettiere riferendogli le dicerie che circolavano in paese se davvero nascondeva un segreto ero sicuro che me lo avrebbe raccontato a tempo debito per molto tempo fui convinto che tutte quelle chiacchiere a proposito del vecchio panettiere nascessero soltanto dal fatto che viveva isolato lontano dal paese però c'era qualcosa nella sua vecchia casa che dava da pensare anche a me non appena varcata la soglia ci si trovava in una grande stanza con un cammino e un angolo cucina nella stanza si aprivano due porte una dava sulla camera da letto di Albert e l'altra sulla cameretta che lui mi aveva messo a disposizione quando ero arrivata a Dorf le stanze non avevano un soffitto particolarmente alto tuttavia osservando la casa dall'esterno ero sicuro che ci fosse un grande solaio dall'altura alle spalle della capanna vedevo persino un lucernario nel tetto di Ardesia la cosa strana era che Albert non ne parlava mai e neppure ci andava così quando i compagni d'osteria parlavano di Albert mi veniva da pensare al solaio una sera capitò che tornassi da Dorf più tardi del solito sentì il vecchio camminare in solaio ne fui talmente stupito e forse anche un po' sgomento che mi precipitai subito fuori a prendere acqua alla fontana come facevo ogni sera feci con calma e quando rientrai Albert era seduto sulla sua sedia a dondolo e fumava la pipa hai fatto tardi disse ma capì che stava pensando ad altro eri tu in solaio gli domandai non mi capacitavo della mia sfacciataggine quella domanda mi era semplicemente sfuggita lui ebbe un sussulto ma subito levò lo sguardo su di me con la stessa espressione di tenerezza di quel giorno in cui molti mesi prima ero crollato sfinito davanti alla porta della vetusta capanna di tronchi sei stanco Ludwig mi chiese scossi la testa era sabato sera il giorno dopo avremmo potuto dormire fino a che non ci avesse svegliato il sole si alzò e buttò qualche altro stecco sul fuoco allora rimarremo alzati un poco a parlare di tronchi di tronchi di tronchi di tronchi